Buonasera Vincenzo De Luca, presidente rieletto della Regione Campania. Buonasera Luca Zaia, collegato con noi da Treviso, presidente rieletto della Regione del Veneto. Insomma, 76% Zaia, 70% De Luca. Hanno votato per voi anche quelli che non sono abitualmente dei vostri partiti di riferimento, presidente De Luca. Credo proprio di sì. Diciamo che è stato un voto di popolo, come dico io, un voto trasversale che ha raccolto il consenso di tutte le persone per bene e tutti gli orientamenti politici. Devo dire in modo particolare c'è stato il consenso di gran parte dell'elettorato 5 Stelle che ha inteso esprimere la propria speranza di rinnovamento in maniera diversa. Abbiamo avuto anche tanti esponenti di forze moderate oltre il mondo progressista. Io mi auguro che questo voto sia un segnale positivo per l'Italia, un segnale di unità popolare, di responsabilità. Per dirla in termini molto semplici, la gente ha capito che le nostre famiglie, le nostre aziende, i nostri figli contano cento volte di più delle bandiere di partito. E mi auguro anche che questo segnale di unità che abbiamo registrato in Campania, come anche in Veneto, possa essere un messaggio positivo per l'Italia. L'Italia è una società ormai intossicata, ricca di tossine. Una società che registra una pulsione verso la violenza, l'aggressività nei comportamenti, nelle parole. L'Italia ha bisogno di serenità, non può essere tenuta sulla corda per anni e anni. Dunque un voto significativo, io credo anche da questo modo di vista, come un messaggio di unità e di serietà per l'intero Paese. Anche per lei, presidente Zaia, va lo stesso discorso? Beh, guardi, le anticipo una vignetta di Oscio, guardi. Vediamo un momento la vignetta che le ha dedicato Oscio. Comunque, pure io ho votato per Zaia. Arturo Lorenzoni, che è il suo competitor, quindi probabilmente anche lui ha votato per lei. Che è successo? Ma guardi, da noi c'è stato un bel risultato, consideri che io non ho neanche fatto campagna elettorale, questo va ricordato. Per scelta perché dopo dieci anni di amministrazione i cittadini hanno tutti gli elementi per valutare. È una doppia responsabilità perché il grande consenso ci porta ad avere grande responsabilità e quindi fare le cose ancora più velocemente. La seconda responsabilità che non viene per ultima è quella di aver intercettato un elettorato che comunemente non ci vota, non mi vota e che ha deciso per questa volta di darci la fiducia, di darmi la fiducia. E penso che ho la maggior responsabilità a rappresentare delle persone che magari non condividono le mie idee politiche ma condividono quello che ho fatto nell'amministrazione e poi magari resteranno nel nostro alveo, diciamo, con il loro consenso oppure torneranno al loro alveo di origine, quindi torneranno a votare PD, visto che qui ho preso un sacco di voti a sinistra. Oppure 5 Stelle, vorrei ricordare che in Veneto non esiste più il gruppo consigliare. Avevamo un gruppo di 5 consiglieri, oggi è zero. Penso che questa sia stata anche un po' sanificatoria come elezione. E dall'altro le dico che questo è anche merito del fatto che tutti i Veneti hanno deciso che questo sia un grande segnale a favore dell'autonomia, del grande progetto d'autonomia che il 22 ottobre farà tre anni dal referendum. Poi parleremo in concreto di autonomia, ma intanto avete visto che noi abbiamo scherzato un pochino, abbiamo chiamato il Doge e lo sceriffo. A proposito di sceriffo, anche a lei Osho ha dedicato una vignetta. Vediamola. Se vedi in tabaccaio, fermate, che devo via la ricarica per l'ansiafiamme. Bene, allora, vediamo un momento i contagi di oggi. Ormai ci siamo, sono un po' superiore a ieri, stabilizzati intorno ai oggi 1648, ieri 1494 in Italia. I guariti oggi 1316, ieri 773. In terapia intensiva oggi 271, ieri 264. I decessi oggi 24, ieri 16. Ma la campania è quella che ha avuto il maggior incremento giornaliero, 286 casi. Li vediamo. La campania precede sia il Lazio, che ne ha 219, sia la Lombardia, che ne ha 200-203. Il Veneto ne ha 140. E già da quello che ci ha detto nel lancio, il Presidente De Luca pare piuttosto allarmato. Sono molto allarmato, non piuttosto allarmato. Io credo che dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo dire con grande chiarezza ai nostri concittadini che siamo già nella seconda epidemia. Non è che deve ancora arrivare, è già arrivata. Devo ricordare ovviamente che la Campania è la regione che ha la più alta densità abitativa d'Italia. In questo momento il 60% dei nostri positivi sono concentrati nel territorio dell'Asl, Napoli 1, Napoli 2 e Caserta, cioè esattamente nell'area metropolitana di Napoli, che è quella a maggiore congestione abitativa. Devo dire che abbiamo fatto nel mese scorso un lavoro straordinario di filtro. Siamo stati l'unica regione che ha reso obbligatorio il tampone per chi rientrava dall'estero, per chi rientrava poi dalla Sardegna. Abbiamo intercettato in questo modo 3.000 positivi. Vi lascio immaginare se non avessimo fatto quel lavoro quale sarebbe oggi la situazione. Ora intendiamoci, noi abbiamo quasi il 90% che sono asintomatici, anche da noi, ma questo non ci tranquillizza per niente. Intanto perché abbiamo rispetto a sei mesi fa una novità grande, aprono le scuole e come si può vedere dalle prime immagini di questi giorni, l'assembramento all'entrata e all'uscita dalle scuole è totale, quindi non c'è nessuno che controlla nulla. Ma io sono preoccupato anche per un'altra ragione, perché noi possiamo fare due scelte, o andare verso il lockdown, cioè chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole. E però lei già ha detto che fino al 7 ottobre non si possono fare, intanto gli alcolici da asporto non più dopo le 22. Poi ha deciso anche che nelle feste non ci possono stare più di 20 persone. Quindi c'è stata già una discreta stretta. Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Lei invece, Presidente Zaia, ha detto che da voi non c'è un'emergenza sanitaria. Ma come mai, nonostante i controlli, c'è stata questa esplosione in Campania, mentre nelle altre regioni, almeno nel Veneto, che questo controllo così rigoroso non hanno ritenuto di dover fare, invece le cose vanno meglio. Guardi, Dottor Vespa, da noi, come l'ho detto prima, in ospedale non c'è un'emergenza sanitaria, quindi ospedaliera. Abbiamo una trentina, 28 persone in terapia intensiva contro le centinaia che avevamo e abbiamo poco meno di 200 pazienti contro i 2.400 che avevamo. Partirei da un dato, se mi permette. L'1,8% dei nostri 11.000 medici ospedalieri si sono infettati durante la fase acuta del Covid. Perché così pochi? Perché utilizzavano le mascherine. Il presidio principale per evitare il contagio è l'uso della mascherina. È inutile che ci giriamo tanto attorno. E finché non ci si mette in testa che l'uso della mascherina è fondamentale, non se ne viene fuori. È in una fase di convivenza che conosciamo. Questo virus, come è arrivato, se ne andrà. Ovviamente questa è una fase difficile. Le do un dato per le scuole del Veneto. Noi abbiamo una macchina da guerra, insomma, l'ho sempre detto che abbiamo l'artiglieria pesante schierata. Stiamo testando, ovviamente controllando 780.000 studenti e 95.000 operatori. Oggi il livello di contagio è di 85 positivi nei 780.000 studenti con un'incidenza dello 0,02. Peraltro sono tutti positivi questi ragazzi, con poi il contact tracing che ci dice che la positività viene da fuori, viene dall'ambiente familiare o dai luoghi di aggregazione, ma non a scuola. Tanto è vero che a scuola poi troviamo le classi, i compagni di classe tutti negativi. Dobbiamo essere sul pezzo, fare testing e soprattutto le volevo ricordare che il Veneto ha chiesto di adottare i tamponi rapidi, li abbiamo testati noi per primi in Italia quelli coreani e finalmente, notizia di queste ore, il governo si è deciso ad autorizzare i tamponi rapidi, che vuol dire avere l'esito in 7 minuti. In quanto tempo? In 7 minuti e le anticipo già, lo dico insomma, in una trasmissione autorevole come la sua, le anticipo già che noi siamo pronti anche con il test rapido con la saliva, il che ci permetterebbe di avere un test rapido, non invasivo, soprattutto per i bambini, l'età pediatrica e in generale per tutti, insomma, il tampone non è molto simpatico da realizzare. Il test della saliva per noi a livello di test rapido lo abbiamo già testato e siamo pronti. E in quanto tempo dà il risultato? Il test rapido sempre in 5-6 minuti, facciamo 10 minuti per prenderci larghi, assolutamente sì. Sono sempre test che ricercano l'antigene, quindi non è un test molecolare, non dobbiamo andare in laboratorio e si fa on the road in strada. Guardi, il mondo della diagnostica ci sta dando una grande mano. Se il 21 febbraio avessimo avuto i tamponi rapidi, non dico il test della saliva, saremmo stati molto più aggressivi nel contenimento dei focolai. Anche voi pensate di fare uso di questi tamponi rapidi, Presidente? Se ne abbiamo qualche fornitura saremmo grati ovviamente di poter utilizzare questi tamponi rapidi, questi test rapidi. Non so se l'Istituto Superiore di Sanità ha validato questi test rapidi. Fino a ieri c'è stato detto che non c'era affidabilità dei test rapidi. Se, come dice Luca, c'è la possibilità di avere questi test, benissimo. Se l'Istituto Superiore ci autorizza e ce li invia, noi saremo felici per utilizzarli. Per quanto riguarda la scuola, noi abbiamo fatto test sierologici a 113.000 docenti e non docenti delle scuole pubbliche private. Abbiamo quindi fatto i test all'80% del personale scolastico. Abbiamo rintracciato ad oggi 11 positivi e stiamo proseguendo per arrivare al 100%. Ma quello che a me preme sottolineare un po' questo dato, se vogliamo convivere per altri dieci mesi, veniamo ai dati essenziali. Noi prima di dieci mesi non avremo la disponibilità di un vaccino, se ci va bene fra dieci mesi. Se vogliamo convivere, il sistema di controllo del territorio deve essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da due mesi, tre mesi, le forze dell'ordine, da questo punto di vista, sono scomparse. Io non trovo più una pattuglia dedicata al lavoro di controllo anti-Covid. Allora vediamo di capirci. Se il governo fa un mese fa un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina dopo le 18 di sera e dopo le 18 nessuno porta la mascherina, dobbiamo capirci. O facciamo le ordinanze, le facciamo rispettare e chi deve farle rispettare sono le forze dell'ordine, le polizie municipali, oppure stiamo perdendo tempo. Ma Presidente, mi scusi, sbaglio? Lei ha detto che negli autobus e nei treni chi fosse sorpreso senza mascherina dovrebbe scendere e se non scendesse dovrebbe fermarsi la corsa dell'autobus e del treno? Assolutamente sì, ma questo lavoro di controllo deve essere fatto dalle forze dell'ordine. Chi lo fa questo controllo? Ho ribadito anche nell'ordinanza approvata oggi che se vi sono passeggeri a bordo senza mascherine il mezzo pubblico si deve fermare e deve essere contravvenzionato chi non indossa la mascherina. Questa cosa chi la controlla? Allora uso della mascherina, assembramenti pericolosi, esercenti di bar che fanno la propria attività senza indossare la mascherina. Questo controllo, chi diavolo deve farlo in Italia? È evidente che se pensiamo di convivere con il Covid in queste condizioni per altri dieci mesi, diciamo chiaro agli italiani che fra un mese dovremo chiudere di nuovo tutto. Questa è la verità. Presidente, anche il Napoli rischia di andare in quarantena perché adesso gli fanno un tampone, c'è stato un tampone positivo, negativo, positivo negativo e sabato e poi dicono come andiamo a fare in trasferta a giocare con la Juventus. Non lo so, credo che si dovrà fare il doppio tampone, vediamo se riusciamo ad avere una tranquillità da questo punto di vista. È stata anche questa una vicenda sintomatica di una situazione che rimane francamente a rischio.